siamo a pagina 268 l'ultima frase che abbiamo soggiato la settimana scorsa la ripeto perché si collega con questo argomento di stasera chiamò alla praticamente c'è questo luogo che si chiama massa e meriva dove gli ebrei leggo il passo chiamò il luogo con il nome di massa e meriva a causa della disputa dei figli di israele e perché avevano messo alla prova scemo dicendo a scemo è tra di noi oppure no perciò qui in questa in questo luogo in questo posto loro cominciano a a dubitare perché mancava l'acqua non questo vogliono bere e allora dicono ma dio è con noi o non è con noi infatti no tutta la storia che mancava appunto l'acqua e dio dice a mosè di andare a parlare con la roccia cioè di picchiare la roccia la prima volta vi ricordate ecco allora loro cominciano a dubitare ma dio è con noi o no perciò c'era questo disputa questa mettere alla prova come sfidare dio se dio è con noi o meno ci ha tirati fuori dall'egitto per lasciarci qua a morire nel deserto ok cominciamo la lezione nuova che proprio si attacca a questa frase perciò quando gli ebrei mettono in dubbio la presenza di hashem con loro o meno la torà dice il passo dopo immediato giunse a malek e combatte contro israele nella località di refidim interessante adesso vediamo una spiegazione molto bella di questa vediamo il commento 8 a malek chi era questo malek abbiamo già sentito altre volte si trattava di una tribù che prese il nome dal suo patriarca a malek chi era questo malek era figlio di elifaz figlio di esav di esaù esaù figlio di giacobbe lui era patriarca di questo popolo a malek che era il nemico giurato degli ebrei odiavano il popolo ebraico in modo assoluto perciò figlio di esaù e della concubina di elifaz che si chiamava timna sorella di lotan e uno dei suoi figli disse il il corita ok questo è la labbro geologico a malek proveniva dall'area circostante petra e gobolitis a nord del sinai nel negev vuol dire che quando loro sono venuti a attaccare gli ebrei non erano vicini cioè molte nazioni magari hanno visto la potenza dell'ebrei eccetera eccetera avevano paura e li attaccavano per pura difesa non è questo il caso del popolo di amalec perché popolo di amalec non era nella traiettoria nella strada degli ebrei che dici li attacchiamo prima che loro eventualmente attacchino noi erano come dice qua erano al nord del sinai erano lontani loro sono venuti a attaccare gli ebrei soltanto per raffreddare loro spiriti per attaccarli indebolirli loro in questo momento erano usciti dall'egitto il loro morale era le stelle erano felici che andavano finalmente tutto felici della della libertà e poi che andavano ricevere la torà e questo in questo momento amalec viene a combattere con loro per primariamente per raffreddare il loro loro spirito bollente con momento la loro gioia di andare ricevere la torà perciò qua dice l'odio di amalec nei confronti di israele non è soltanto l'eredità dell'antenato esaù che esaù odiava giacob ma di ciò di cui il suo popolo è simbolo il malvagio profeta bil am che era e parlò di amalec come il primo tra i popoli poiché esso è la forza motrice del male così come israel è del bene questo bil am che fa qualche parasha parleremo anche di parasha del per avere non chissiamo noi lui dice che amalec era il primo il primo tra i popoli i primi popoli di fare cosa attaccare il popolo ebrei il primo popolo che ha combattuto contro gli ebrei una volta usciti era amalec poiché lui è stato questo amalec è stato la forza motrice quando tu cominci un qualcosa lui ha cominciato un'azione ha cominciato a combattere contro l'ebrei e poi tutti gli altri si sono permessi anche loro di combattere contro l'ebrei perché hanno visto che qualcuno altro l'ha fatto ha aperto il varco diciamo la forza motrice lo chiama qua forza motrice del male così come israel invece è dall'altra parte la forza motrice del bene di conseguenza la guerra tra questi due popoli è simbolo dell'eterna battaglia tra il bene e il male tuttora noi adesso il popolo ebraico è in battaglia contro amalec perché è un simbolo tra il bene e il male l'attuale esilio del popolo ebraico è definito dai saggi come appunto l'esilio di edom che è un altro dei nomi dei discendenti di esau amalec edom sono tutti e due discendenti di esau e perciò adesso noi ci chiamiamo siamo nell'esilio di esau esilio di edom adesso e l'avvento del messia descritto dal profeta obadiah scrive così dei salvatori saliranno da zion per guidare il mondo per giudicare il monte di esau e il regno sarà di hashem perciò dei salvatori persone che dei salvatori saliranno da zion zion e israele per fare che cosa per giudicare il monte di esau e il regno sarà di hashem perciò alla fine dei giorni quello che succederà è che esau perderà la sua potenza e finalmente il popolo ebraico sarà libero non c'è più il galut la diaspora concludendosi con la promessa divina che hashem cancellerà la memoria di amalec dalla faccia della terra questo brano insegna che verrà un tempo in cui il male sarà definitivamente sconfitto e scomparirà questo è quello che succederà quando verrà mashia e perciò quando verrà mashia verrà sconfitto finalmente questo popolo di amalec che tuttora sta combattendo contro di noi questi versetti trattano del primo scontro tra israele e amalec e mostrano l'astuzia con cui quest'ultimo amalec ordì la sua offensiva e adesso vedete che cosa interessante gli amaleciti, cioè il popolo di amalec in quanto discendenti di Esau vivevano ai confini della terra che era stata promessa ai figli di Giacobbe sapevano di non avere motivi validi per attaccarli poiché gli ebrei non rappresentavano una minaccia come dicevo prima all'integrità del loro territorio inoltre prima di allora non si erano mai verificati scontri fra i due popoli la meschina aggressione di amalec aveva però due moventi uno, mostrare la propria negazione di Dio e del suo potere a garantire la continuità dell'antico odio di Esau per Giacobbe il loro modo di far vedere l'odio per Giacobbe era di far vedere che Dio non è onnipotente loro andavano anche contro l'onnipotenza, la superiorità di Hashem infatti amalec viene chiamato, viene detto di amalec iodea conosce il suo padrone e vuole comunque andare di contro c'è chi non conosce Dio, c'è chi non crede in Dio allora può fare una battaglia con il popolo di Israele, con Dio eccetera qui Diamalec dice lui conosceva benissimo l'esistenza di Dio conosceva benissimo la forza di Dio, eppure voleva andare contro a Dio che è la cosa peggiore, perché chi non conosce, chi non sa è un fatto di ignoranza, non conosco, non so ma chi sa dell'esistenza di Dio e di va contro vuol dire la cosa peggiore come mostreranno i versetti e i commenti seguenti la Torah ci spiega quale condotta negativa darebbe la forza a amalec per sopraffare Israele, perciò amalec da dove ha la forza di sopraffare il proprio ebraico, lo vedremo nei prossimi passi, e quali soldati e armi potrebbero invece sconfiggerlo, perciò fra poco ci spiegherà cos'è la forza di amalec sugli ebrei e cos'è la nostra di forza per rispondere al amalec non amalec soltanto dell'epoca, ma amalec anche di adesso ok, per Oiz che è appena entrata siamo adesso andiamo a pagina 269 e continuiamo a leggere sempre nel commento Refidim 369 2, 2, 6, 9 il commento, il primo commento a sinistra giù Refidim perciò c'è domande finora? tutto chiaro? ok Refidim che era una località menzionando il nome del luogo la Torah allude al motivo dell'attacco a Refidim infatti gli ebrei misero in discussione la presenza di Hashem tra loro è veramente Hashem in mezzo a noi o no? qua c'è un Midrash bellissimo il Midrash li paragona a un bambino portato sulle spalle del papà il quale soddisfa ogni sua richiesta c'è questo bambino che è seduto sulle spalle del suo papà e vanno in giro e ogni cosa che vede papà me lo prendi? e lui lo prende papà che bello me lo prende ogni cosa che il bambino desidera papà glielo dà dopo un po' incontrato un passante il bambino gli chiese sai dov'è mio padre? come? tu sei seduto sulle sue spalle? e chiedi a uno hai visto il mio papà che non lo vedo più? intanto il padre dice al figlio non sai dove sono? cioè io ti sto portando sulle mie spalle ti sto regalando ogni cosa che mi chiedi ogni schizio che hai te lo do e tu chiedi dove sono e lo fa scendere in terra dove viene morso da un cane ovviamente è una metafora no? perciò scende prima era al sicuro sulle spalle del papà tutto quello che voleva lo riceveva e poi dice scendi giù analogalmente dopo tutti i miracoli i prodigi di cui godettero gli ebrei di cui godettero gli ebrei ebbero l'ardire di domandarsi se mai Hashem fosse tra di loro uguale come gli ebrei li hai tirati fuori dall'Egitto i miracoli e questo e quest'altro ha la prima difficoltà eh ma Dio non è mezzo a noi ma come sei sulle sue spalle ti sta dando tutto come fai soltanto a pensare una domanda del genere per questo egli li fece scendere dalle proprie spalle rendendoli vulnerabili all'attacco di Amalek per questo che io ho ripetuto l'ultima frase la settimana scorsa l'anno settimana scorsa cos'è il dubbio quando tu hai il dubbio se Hashem esiste e ti sta proteggendo o no Hashem dice ok hai il dubbio te lo dimostro io ti mando ti mando Amalek perciò ogni volta che noi fate attenzione ogni volta che noi dubitiamo di Dio Amalek si rafforza i popoli che rappresentano Amalek loro si rafforzano perché la nostra forza ricordiamoci non è soltanto non è la nostra forza fisica il popolo ebraico è diverso dagli altri popoli gli altri popoli la loro forza è sulla loro spada sulla guerra sulla politica e quant'altro il popolo ebraico no il popolo ebraico la nostra forza è in Dio perciò è nella fede perciò quando tu hai fede in Dio tutto va a posto come vedremo adesso la risposta di Mosè non lo dico io vediamo Mosè cosa ci dice quando invece una persona ha mancanza di fede in Dio allora i vari Amalek delle varie generazioni prendono l'avvento su di noi l'Amehiltà interpreta il nome di questo luogo Refidim come una contrazione dell'espressione l'espressione Radu Rafu Yedahem Min Atorah ovvero perciò vedete le iniziali di Rafu Yedahem Min Atorah da Refidim che cosa vuol dire questa frase allentarono il loro attaccamento alla Torah quando gli ebrei appunto si sono allontanati hanno avuto dubbio arriva Amalek fin tanto che gli ebrei si impegnavano seriamente nello studio della Torah Amalek non aveva alcun potere su di loro iniziò invece a rappresentare una serie minaccia non appena il loro studio perse vigore lo studio della Torah ora Saim spiega che questo è il motivo per cui Mosè scelse proprio Yushua per guidare la battaglia questa battaglia contro il popolo di Amalek Mosè come vediamo fa poco dice a Yushua di andare a preoccuparsi di organizzare a guidare la battaglia perché proprio Yushua quest'ultimo questo Yushua era il suo discepolo prediletto che non aveva mai lasciato la sua tenda che non aveva cioè mai cessato di studiare Mosè non ha scelto un forzuto uno stratega un guerriero no ha scelto il più bravo dei suoi discepoli il più studioso capite la capite qua la testa di Mosè non va a scegliere uno stratega guerriero va a scegliere il più studioso per condurre la guerra perché perché lo studio della Torah protegge il popolo ebraico e questo è Mosè e oggi questo lo dobbiamo lo dobbiamo imparare andiamo avanti poi vedremo nove Mosè disse a Yushua Scegli ci degli uomini ed esci a combattere contro Amalek domani io mi terrò in cima alla collina io Mosè con in mano il bastone di Dio perciò tu Mosè tu Yushua organizza la guerra tu sei il capo della guerra e io andrò sulla collina con il bastone vuol dire a pregare vediamo il commento nove Mosè disse Mosè non volle guardare guidare il popolo in guerra perché non è nato lui direttamente in guerra era lui il capo dell'ebraico in quel momento invece non va lui manda Yushua Mosè non volle guidare il popolo in guerra perché desiderava salire in cima alla collina da essa egli avrebbe potuto osservare la battaglia dall'alto faccio lui è andato sopra la battaglia e pregare per gli ebrei e avrebbero potuto vederlo traendone coraggio e fede quando vedevano Mosè in alto perciò la guerra era sotto lui sale sopra la collina in modo che lui da sopra poteva guardare e loro potevano vedere Mosè che stava pregando per loro e loro che vedevano che Mosè pregava per loro sicuramente traevano coraggio che Mosè sta pregando per noi cosa vediamo qua cosa vediamo qua che Mosè capisce che c'è una parte del popolo che deve andare a combattere perché pregare da solo non basta ma c'è una parte del popolo che deve pregare Mosè capisce che bisogna amalgamare mischiare la preghiera all'azione della guerra perciò voi andate a fare la guerra io vado a pregare apro e chiuso chiudo una parentesi questo è quello che bisogna capire anche per noi a Israele oggi senza entrare in queste discussioni che vogliono arruolare in generale al di là di tutto noi dobbiamo capire che il nostro popolo è un popolo come vediamo qua è un popolo non di guerra ma un popolo di spirito a volte purtroppo dobbiamo andare a fare la guerra purtroppo per salvarci eccetera eccetera le nostre guerre non sono mai di conquista le nostre guerre sono sempre di difesa e quando c'è da fare bisogna farlo non è da escludere l'importanza di quella fetta del popolo ebraico che magari non va a combattere con le armi in prima linea ma combattono con le preghiere con lo studio con le mitzvot con l'aiuto con il diffondere del bene qua lo vediamo da Mosè Mosè non va a fare la guerra Mosè va sulla collina a pregare e questo lo impariamo da lui la preghiera sicuramente non è da meno ma è a pari se non di più di vincere una guerra ci si divide i compiti così come ci sono dei soldati no che stanno in cucina a cucinare anche loro sono dei soldati loro no non tutti vanno al fronte non tutti vanno a casa ci sono quelli che stanno a cucinare ci sono quelli che fanno altre altre mansioni non tutti vanno in prima linea ognuno e noi possiamo dire che chi sta in cucina a cucinare o chi pulisce i gabinetti dei soldati lui non sta facendo la guerra fa parte ognuno a modo suo fa parte di questa guerra c'è chi cucina chi pulisce e chi va sul fronte e chi prega però nessuno è esente questo sicuro nessuno può esimersi dal o fare la guerra o pregare qualcosa dobbiamo fare ma questo anche per noi che siamo fuori da Israele noi che siamo fuori da Israele più di tutti dobbiamo pregare studiare per i nostri soldati noi che siamo qui da noi nessuno richiede di andare a guerra siamo qui ma la nostra guerra è con la bocca con la preghiera di proteggere i nostri soldati che questa guerra possa finire al più presto possibile ripeto ognuno ha il suo ruolo e deve portarlo a termine Joshua era figlio di Nun famoso Joshua bin Nun figlio che lui era figlio di Elishamah figlio di Amiud il principe della tribù di Efraim Efraim figlio di Yosef essendo discendenti diretti di Giuseppe di Yosef i membri della tribù di Efraim non furono mai resi schiavi detenevano una forte tradizione militare e Nun il padre di Joshua era stato un importante generale Joshua era l'assistente di Moshe fin dall'Egitto infatti Joshua è il suo il successore quando Mosè lascerà questo mondo fisico Joshua prende il suo posto Mosè lo chiamò Yehushua benché il suo nome all'origine era Hosea lui si chiamava Hosea e Mosè che gli cambia il nome in Yehushua infatti gli aggiunge la lettera Yud Yehushua la lettera Yud del nome di Dio Yud Kei Wav Kei come perché come preghiera come quello che ho detto la settimana scorsa la parasha gli shilach i meraglin come si chiamano le spie che Mosè mandò allora perché lui ha pregato per Joshua affinché non cadesse nella trappola della congiura degli esploratori gli esploratori sono partiti con l'idea sbagliata non è che sono andati lì sono tornati già di partenza volevano andare a un rapporto negativo non volevano entrare in Israele perciò Mosè prega per Joshua che lui non caschi nel tranello non prenda negatività idea negativa dai suoi compagni che lui possa rimanere integro perciò Mosè ha pregato per Joshua che Dio ti mantenga integro che tu anche non cambia la tua idea come i tuoi compagni cambieranno perciò già dall'inizio Mosè ha pregato per lui infatti li cambia il nome fatto che avrebbe luogo più di un anno dopo questa battaglia tuttavia Mosè li cambiò il nome in questo momento conscio del fatto che in futuro Joshua avrebbe avuto necessità di molto aiuto e di preghiera capiste Mosè cambia già il nome di di Joshua in Joshua metterà you dentro già vedendo che fra un anno ci sarà quel pasticcio con gli esploratori la Torah però menziona il fatto solo nel contesto della congiura degli esploratori tutto questo viene raccontato nella parasha di Shlach nel libro di Bamilbar perché fu in quel contesto che egli acquisì importanza ok domande ok prima di girare pagina leggiamoci quella scintilla di Kasedutzu a sinistra introspezione la causa dell'attacco di Amalek va ricercata nell'atteggiamento del popolo verso Hashem e le mitzvot la trasgressione del primo Shabbat e il dubbio se Hashem è tra di noi oppure no furono ciò che provocò l'attacco non sempre si può cercare il motivo delle nostre pene nell'odio degli altri popoli spesso il movente va trovato in noi stessi nel nostro comportamento verso Dio e verso il prossimo come appunto dicevamo prima ok possiamo girare pagina continuiamo nel commento non è ancora finito siamo in mezzo al commento nove dove ricordiamo che Dio dice a Joshua di andare a organizzare la guerra di scegliere delle persone per fare la guerra mentre Mosè sarà in cima alla collina ok sceglici degli uomini Mosè collocò Yehoshua pagina 270 si Mosè collocò Yehoshua al suo stesso livello al proprio livello di Mosè perché gli dà il merito di organizzare questa cosa di essere lui il capo della guerra da cui i saggi ti educano l'onore del tuo discepolo ti sia caro come il tuo stesso onore chi ha dei seguaci dei dei alunni dei figli quello che sia l'onore dei tuoi alunni dei tuoi discepoli deve essere caro a te come il tuo stesso onore onorare i propri discepoli uomini il termine indica rodi moralmente e timorati di Hashem non guerrieri ma persone che sono moralmente hanno il timore timorati di Dio come si dice no i cui meriti possano essere d'aiuto al popolo persone che hanno tanti meriti per la loro buona azione che loro possano appunto i loro meriti aiutare la guerra oppure persone che sappiano annullare sortilegi perché in quanto li amaleciti erano abili maghi e strigoni oltre a guerrieri avevano queste cose della stragoneria perciò questi annashin questi uomini dovevano essere anche persone che erano capaci di annullare le magie e i sortilegi del popolo di amalec esci a combattere contro amalec perché esci esci dalle nuvole che circondano il popolo nel deserto le famose nuvole che circondavano gli ebrei dovevano uscire da quelle nuvole per combattere contro amalec uscendo dall'egitto gli ebrei dovettero affrontare due guerre interessante questa quella contro il faraone perché quando il faraone poi torna indietro a riprenderli di nuovo c'è una battaglia contro di loro davanti al mare perciò uscendo dall'egitto gli ebrei dovettero affrontare due guerre quella contro il faraone e questa contro amalec due guerre ma se riguardo alla prima è detto Hashem combatterà per voi quando è arrivato il faraone Mosè non dice a Yushua per esempio vai raccogli facciamo un esercito non si parla di guerra lì lì cosa c'è scritto Hashem combatterà per voi mentre voi rimarrete in silenzio ricordate i quattro gruppi Mosè che prega quelli che vogliono fare la guerra quelli che vogliono buttarsi in mare quelli che vogliono arrendersi no i quattro gruppi Dio dice nessuno di voi non è questo il momento di niente di questo state in silenzio e guardate la guerra che io farò per voi infatti la guerra cos'era che Hashem ha aperto il mare e gli egiziani sono morti nel mare perciò lì in quella guerra Dio dice non muovete dito faccio io gli pensimi invece in questa guerra contro l'aggressione di Amalek bisognava reagire con la forza perché qui invece Dio non dice ci penso io dice andate a fare la guerra perché mi state seguendo capite la prima guerra quella contro gli egiziani Dio dice ci penso io state tranquilli questa guerra Dio dice andate voi a fare la guerra perché che differenza fa il motivo della distinzione va ricercato nel genere di guerra che questi due nemici condussero contro Israele era il genere di guerra che cambiava gli egizi rappresentavano un pericolo materiale in quanto volevano eliminare gli ebrei fisicamente senza intaccare perlomeno non direttamente la loro fede loro volevano o uccidere gli ebrei o portarseli indietro volevano i loro schiavi indietro non interessava la loro fede in quel momento non erano di te volevano portarli indietro come schiavi Amalek invece rappresentava un pericolo spirituale non fisico Amalek non voleva uccidere gli ebrei o schiavizzarli voleva soltanto disconnetterli da Dio rovinare la loro fede raffreddare il loro entusiasmo perciò era un pericolo spirituale poiché comparve proprio quando gli ebrei erano diretti sul monte Sinai dove stavano per ricevere la Torah lo sono messi tra gli ebrei e la Torah allora Amalek raffredda l'entusiasmo degli ebrei vuole minare il loro fervore religioso di fronte a nemici come il faraone nemici fisici Hashem combatte per noi chiedendoci soltanto di riporre la nostra fede in lui quando il tuo fisico è in pericolo dice Dio ci penso io è come un papà un papà che difende i suoi figli ci penso io alla tua vita soltanto chiedo da voi che abbiate fede in me invece contro la guerra di Amalek Dio non può combattere perché perché si tratta di spiritualità identità ebraica sembra un paradosso sembrerebbe che qua vediamo che è inverso quando il corpo è in pericolo Dio ti aiuta quando la tua anima è in pericolo tu devi aiutarti non Dio perché la nostra anima noi siamo responsabili della nostra anima Dio è responsabile del nostro corpo ma noi siamo responsabili di quest'anima che Dio ci ha dato in custodia perciò quando l'anima è in pericolo non dobbiamo lasciare che Dio si autodifenda è come una persona mettiamolo in questo termine quando una persona viene attaccare il figlio il padre corre a difendere il figlio quando qualcuno viene attaccare il padre il figlio corre a difendere il padre che sia a difendere il suo onore o il suo corpo quello che sia capite è direttamente non in proporzionale ma proporzionale il padre difende il figlio e il figlio difende il padre in questo caso Dio difende il corpo e noi dobbiamo difendere la nostra anima contro i nemici come Amalek Hashem chiede agli ebrei di reagire con fermezza e se necessario anche con la forza fisica e di non contare sul suo intervento contro gli Amalek di ogni generazione è un po' come Hanukkah e Purim no? Hanukkah e Purim lì era spirituale qui era materiale e così via anche con la forza fisica e di non contare sul suo di Dio intervento contro gli Amalek di ogni generazione contro coloro che vogliono ostacolare la nostra osservanza dei precetti e raffreddare il nostro entusiasmo è nostro compito combattere questo è un concetto di Hassidut Hassidico sempre di seguito lì nel commento Fur era figlio di Miriam ah ma pardon ho saltato domani io mi terrò qua dice Mosè al momento della battaglia io mi troverò già lì a pregare per il popolo contrapponendo la preghiera alla disgrazia Mosè rimandò al giorno successivo la battaglia e non l'ha fatta subito per consentire a Joshua di arruolare i soldati e preparare le armi di solito quando Gio dice una cosa si fa immediatamente qua ha preso un giorno di tempo per organizzare a fare quello che Gio ha chiesto 10 10 Joshua fece come gli aveva detto Mosè combattendo contro Malek mentre Mosè Aharon e Hur salirono in cima alla collina perciò non era Mosè da solo con lui c'era il fratello Aharon e il nipote Hur 10 commento Hur chi era questo Hur era figlio di Miriam appunto il loro nipote il popolo avrebbe vinto la battaglia per merito di Aharon di Mosè e di loro sorella Miriam ora rappresentata dal figlio perciò i tre patriarchi attuali Mosè Aaron e Miriam Miriam tramite il figlio loro sono quelli che hanno fatto meritare la vittoria del popolo di nuovo la vittoria è grazie allo spirito Hur era un importante capo i suoi diretti attenati erano Yehuda Perez Hetzron e infine Kalev e lì era anche il nonno di Bezalel colui che avrebbe diretto i lavori della costruzione del santuario e il fratello più giovane di Ram padre di Aminadav padre di Nachshon capo della tribù di Yehuda all'epoca nell'inaugurazione nel Mishkan e nel censimento nel deserto perciò fa la sua storia ok il Talmud insegna che Hur fu ucciso mentre tentava di impedire l'adorazione del vitello d'oro dopo no quando gli ebrei fanno il vitello d'oro lui che ha provato a dire no state sbagliando Mosè arriva l'hanno l'hanno ucciso infatti ha ragione per cui parentesi ragione per cui Aaron quando ha visto che Hur è stato ucciso cercando di spiegargli al popolo Aaron ha detto è inutile che ci provo anch'io e uccidono anche me perciò Aaron ha cambiato tattica ha cercato di perdere tempo sapendo che Mosè sta per arrivare chiusa parentesi ok andiamo nella pagina accanto sempre nei commenti 271 commento i quattro capi che condussero la guerra di Amalek rappresentano i quattro diversi elementi che devono caratterizzare la perfetta guida del popolo ovvero Mosè era il profetta la profezia Aaron era il sommo sacerdoto perciò il culto divino Hur il nipote era la saggezza e l'arte Yoshua che era giù in campo invece era la prodezza benissimo undici dai che stiamo per finire undici quando Mosè aveva perciò abbiamo detto che Aaron perdono Yoshua e giù con l'esercito e Mosè Aaron e il nipote Hur sono su sulla collina quando Mosè aveva il braccio alzato Israele prevaleva mentre quando lo abbassava prevaleva Amalek questa guerra che c'era giù sulla terra dipendeva dalle braccia di Mosè quando aveva il braccio alzato vincevano gli ebrei quando si abbassava il braccio vinceva Amalek cosa vuol dire andiamo al undici quando Mosè aveva il braccio alzato i saggi chiedono furono forse le braccia di Mosè a far vincere la battaglia e sono le braccia che far vincere la battaglia che cos'è questa storia la Torah ti insegna no non sono le braccia in sé ma fin tanto che gli ebrei guardavano in direzione del cielo e sottomettevano il loro cuore a Dio che nei cieli essi avevano la meglio quando invece non lo facevano crollava quando Mosè alzava le braccia erano alzando le braccia in segno di preghiera a Dio ma gli ebrei guardando le braccia di Mosè guardavano il cielo e ricordavano di Dio esattamente come il serpente il serpente che Mosè fa per salvare gli ebrei che morivano guardavano il cielo e guarivano stesso concetto di nuovo vediamo che la guerra è una guerra spirituale guardi il cielo ti ricordi di Dio e Dio ti protegge perciò Mosè pregava e teneva le mani era il simbolo di fare teshuva di ricordarsi di Dio Rajbam spiega che insieme al braccio Mosè teneva alzato anche il bastone infatti nell'antichità quando i soldati vedevano la bandiera issata capivano che stavano vincendo mentre se veniva abbassata era segno di sconfitta e quindi fuggivano viene da questa storia qua 12 ma le braccia di Mosè si fecero pesanti a un certo punto si stancava Mosè di tenere le braccia alzate allora cosa hanno fatto Aharon e Hur che erano accanto a Mosè presero una pietra e la collocarono sotto di lui Mosè si sedette Mosè si siede su questa pietra mentre Aharon e Hur gli sostenevano le braccia perché ormai gli faceva male e non riusciva più a tenere le braccia in alto perciò i due tenevano le sue braccia in alto uno da una parte e uno dall'altra e le sue braccia resistettero fino al tramonto del sole ok 12 commento le braccia di Mosè si fecero pesanti allora storreggendo le braccia di Mosè appesantite dalla stanchezza Aharon e Hur si tenevano in piedi uno sulla destra e l'altro sulla sinistra Mosè preferì sedersi su una pietra piuttosto che su un cuscino perché non voleva riposare mentre il suo popolo era in pena non è che Mosè si siede perché vuole fare la pennichella Mosè si siede perché non riesce più a tenere le mani in alto e allora per far sì che i suoi due collaboratori riescano a tenere le mani in alto lo fanno sedere però lui non dice portatemi una sedia un cuscino mi siedo su una pietra una pietra scomoda per dire i miei fratelli i miei figli stanno combattendo allora anch'io in qualche modo non faccio cenno di libertà o di comodità mi siedo però su una pietra come quando mi viene in mente adesso un accostamento come quando nell'arca di Noè animali e persone non potevano avere intimità rapporti sessuali e Dio dice ma come fuori il mondo sta distruggendosi le persone gli animali muoiono e voi avete intimità no cioè tutto il momento nessuno poteva avere piacere ok sempre di seguito il commento 12 in basso resistettero letteralmente ebbero fede Rashi parafrasa l'espressione dicendo le braccia di Mosè erano rivolte al cielo con fede con una preghiera fedele e giusta giudiamo la pagina finiamo il commento di là fino al tramonto del sole lui riuscì a tenere il braccio sopra fino al tramonto del sole gli amaliciti avevano calcolato l'ora della vittoria in base all'astrologia abbiamo detto prima che loro erano stregoni astrologi eccetera eccetera perciò loro avevano calcolato quando avrebbero vinto secondo il loro modo di vedere le stelle eccetera cosa succede però Mosè però sconvolse il loro il corso degli astri e quindi anche quello delle ore i termudi Yerushalmi cita Rabbi Yoshua secondo il quale Amalek aveva arruolato perciò loro guardavano gli astri e avevano visto che a una certa ora avrebbero vinto invece Mosè è riuscito a scombussolare questi astri quelle cose che loro vedevano a favore degli ebrei in più il Talmud cita che secondo Amalek secondo il quale Amalek aveva arruolato per quella battaglia i soldati che celebravano il compleanno in quel giorno interessante tutti quelli che erano lì in battaglia avevano compleanno quel giorno lì perché contando sul potere degli astri il cui ciclo fu poi sconvolto da Mosè come noi oggi sappiamo che il giorno del compleanno di una persona il suo masale è forte chiediamo benedizione a chi fa il compleanno eccetera chi ha il compleanno ha molta forza spirituale in quel giorno Amalek sapeva di questo e ha scelto i soldati che tutti avevano compleanno in quel giorno basandosi su questo insegnamento talmudico il Rebbe di Lubavitch sottolinea l'importanza del compleanno ebraico giornata che deve essere dedicata a nuove decisioni in campo spirituale e alla meditazione nonché all'azione pratica praticamente il Rebbe dice il giorno è compleanno devi andare in introspezione pensare a te stesso prendere nuove decisioni cercare di migliorare la tua vita faccio una cosa in più e così via cioè non è un compleanno che deve passare così ma il compleanno è un giorno importante che ognuno deve è un piccolo kippur un piccolo Rosh Hashanah che dobbiamo guardare dentro di noi e migliorare la nostra condotta 13 Yoshua indebolì Amalek e il suo popolo a fil di spada 13 giù Yoshua indebolì uccidendo i suoi soldati più forti fu per ordine divino che risparmiò gli altri poiché di certo non gli mancava la forza di ucciderli avendo già sconfitto i più potenti Yoshua mette sotto il proprio pieghi indebolisce il popolo di Amalek uccidendo i soldati più forti però poi Dio dice ok basta non andrà avanti a ucciderli inoltre solo Hashem poteva indicargli chi era forte e chi era debole secondo Rajban il termine vajahalosh cioè indebolire semplicemente significa sconfisse perciò indebolire e sconfisse va insieme Amalek rappresentava l'essenza del male e non era ancora giunto il momento di eliminarlo dal mondo perciò per questo che Amalek Yoshua lì poteva finire il tutto popolo Amalek Dio dice no non è ancora non è arrivato il momento ci devono ancora essere peraltro Hashem non permise a Yoshua di farlo nel versetto seguente Hashem si impegna a sterminare Amalek in un'epoca futura Amalek deve essere sterminato dal mondo oggi all'epoca di Yoshua era ancora presto faccia Dio diciamo a Yoshua ok basta così il resto verrà eliminato più avanti in un'epoca futura anche se indefinita il suo popolo basandosi su Mkhiltà Rav Kaplan traduce il termine con i suoi alleati di Amalek ok stiamo per finire 14 Hashem dice Mosè scrivi questo nel libro come ricordo il libro della Torah come ricordo e infondi nelle orecchie di Yoshua che cancellerò completamente la memoria di Amalek da sotto il cielo Dio dice adesso no ma lo farò verrà cancellato un giorno il nome di Amalek perciò 14 commento scrivi questo nel libro come ricordo secondo Ramban è un primo commento di Benesra questo libro è la Torah scrive nella Torah poiché il precetto di eliminare Amalek è descritto nell'ultimo libro Devarim è una mizfà della Torah di annientare Amalek di farli fuori uomini donne bambini tuttavia considera Ibenesra tuttavia considera l'ipotesi che possa trattarsi del libro noto come il libro delle guerre di Hashem che oggi non c'è va bene comunque sia Ezra aggiunge che pur essendo riportato qui il comandamento di trascrivere questo evento fu espresso da Hashem al termine dei 40 anni trascorsi dal popolo nel deserto prima di entrare in terra d'Israele Moshe avrebbe dovuto trascrivere il fatto che Amalek era stato il primo popolo ad attaccare Israele perciò il primo il più colpevole quello che ha aperto il varco quello che ha dato la sicurezza e la forza a tutti poi in futuro di combattere Israele per colpa di Amalek infondi nelle orecchie di Yoshua digli che ti succederà alla guida del popolo di Israele che lui ti succederà sarà il tuo successore del popolo di Israele e sarà lui a compiere la mitzvah di cancellare Amalek infatti sarebbe stato Yoshua non Moshe a condurre il popolo in eres Israele ciò avvenne anche per rassicurare Yoshua che si chiedeva per quale motivo Hashem gli avesse impedito di cancellare Amalek perché non mi ha fatto finire la guerra gli venne perciò detto che non era ancora giunto il momento accanto Maho Emche cancellerò completamente la scelta del termine completamente deriva dalla ripetizione del verbo perché qua in ebraico dice Maho Emche cancellare cancellerò in italiano non ha un senso ma in ebraico è un rafforzativo quando ripeti un verbo lo stai rafforzando allora qui in italiano è stato tradotto con cancellerò cancellerò completamente talvolta questo tipo di ripetizione indica certezza il compito di eliminare fisicamente il popolo di Amalek ricadrà su Yoshua e sul popolo ebraico Hashem invece provvederà a cancellarne la memoria questo è quello che dice il Rebbe ultimo pass penultimo 15 Moshe costruì un altare che lo chiamò due punti di virgolette Hashem è il mio miracolo 15 altare Hashem è il mio stendardo chiunque pronuncerà il nome dell'altare si ricorderà grazie a esso del miracolo operato da Hashem l'altare fu eretto a Refidim ultimo e disse Hashem giura sul trono di Dio cosa che giuramento sia guerra di Hashem contro Amalek questa guerra è la guerra di Dio contro Amalek per tutte le generazioni e abbiamo finito la parasha leggiamo il commento giura sul trono di Dio l'espressione letteralmente è Hashem alza la mano sul suo trono è lui che fa il giuramento sul suo trono essa però deve essere intesa nel senso di giuramento Moshe afferma che Hashem ha giurato mettendo la mano sul proprio trono di proseguire la guerra contro Amalek in eterno finché ne verrà cancellata la memoria Amen oggi esprimendo questo giuramento Moshe impiega una forma contratta del termine kes kes vuol dire trono anziché chissè chissè vuol dire sedia e il nome di Hashem composto da due lettere yut kei anziché il più ricorrente tetragramma composto da yut kei vav kei il nome di Hashem e il suo trono infatti sono limitati finché esiste Amalek qua il nome di Dio quando fa questa promessa mette la metà del nome mette la yut mette la hey non tutte le quattro lettere ne mette due di lettere come mai mette una parte del nome di Dio e non tutto perché dice che fantastico tristissimo che finché esiste il popolo di Amalek il nome di Hashem non è completo il nome di Hashem il trono sono limitati perciò Amalek non soltanto Amalek come popolo fisico ma come quello che rappresentano il male nel mondo perciò il nome di Dio non può essere completo il nome di Dio è limitato finché esiste Amalek un secondo Luisa Rambam e Rabbeninu Bechaye spiegano che il versetto si riferisce ai re del popolo ebraico fino a quando la mano sia il potere di un ebreo sarà sul trono il re dovrà continuare a combattere contro Amalek appena nominato re fu infatti comandato a Shaul di condurre una guerra totale contro questo popolo e non avendo portato a termine la missione fu deposto dal trono lui è andato in guerra ma non ha ucciso tutti ha risparmiato gli animali le donne eccetera allora subito ha perso il trono perché lui doveva finire la missione di uccidere Amalek di Kechaia forse è una stupidità quello che chiedo però allora per questo anche nel Sidur c'è il nome sempre abbreviato ah no 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 ok no no qua anche nella no no un conto è abbreviare ma lo si dice intero lo si pronuncia intero qua si pronuncia a metà non solo che è scritto a metà ok l'osservazione è giusta eh l'osservazione è giusta ma qui se lo leggi in ebraico va Yomer Chiyad Al-Kes Yah è la metà del nome di Dio ma lo si pronuncia anche a metà non soltanto si scrive ah ok diverso di quando è abbreviato ma io però si dice nome intero osservazione giustissima un minuto ancora leggiamo l'ultima parte che è il cumpleano ebraico nel giorno del cumpleano si deve isolare per affiorare i ricordi riflettere sul passato e correggere le azioni che richiedono Teshuva e rettificarle questo è quello che il Rebbe precedente dice invece il Rebbe di Rubabic dice promosse l'adozione di alcune importanti usanze allo scopo di sfruttare opportunamente questo importante giorno cioè Rebbe dice di fare le seguenti cose nel giorno del compleanno alia al sefer se è di lunedì o di giovedì o di shabbat di salire al sefer uomo salire al sefer o comunque il shabbat precedente poi si dia più tzedakah in quel giorno lì del compleanno di dare più tzedakah del solito tefilah si preghi con maggiore concentrazione poi tehillim si studi il capitolo di tehillim corrispondente alla nuova età perché noi sappiamo che noi ogni giorno leggiamo il tehillim della nostra età più uno Torah si studi più Torah sia nell'ambito di quella rivelata che nella chassidut poi amore per il prossimo nel giorno il compleanno ci si dedichi maggiormente alla manifestazione dell'amore per il prossimo esame di coscienza si rifletta sulle azioni dell'anno passato analizzandole con serietà al fine di correggerle e migliorarle laddove necessario poi un nuovo impegno vuol dire in questo rosh Hashanah personale il compleanno come un piccolo rosh Hashanah ci si impegni nell'osservanza di una mitzvah trascurata poi un incontro chassidico organizzare una festa chassidica tra amici parenti nel segno della gioia e allegria un farbring discorso chassidico se è possibile si reciti a memoria un maamar o comunque si legga o si spiega delle parti di un discorso chassidico pronunciato da uno dei rabbi Masalto Masalto settimana prossima cominciamo una nuova parashah i tro dieci comandamenti Masalto prego parola a voi bello l'incontro chassidico come quello di domani oh bravo qualcuno vuole aggiungere qualcosa donna ma ho trovato molto interessante da sottolineare insomma che quando il pericolo che noi corriamo è fisico tipo Burim Yetziat Mitzraim allora è lavoro da Shem Shem che fa difatti Moshe dice voi state in silenzio Shem sarà per voi eccetera quando invece il pericolo è spirituale tipo Hanukkah o Amalek e allora dobbiamo farlo noi cioè dobbiamo rendersi parte attiva per combattere il raffreddamento che ci viene dato da Amalek o comunque dai greci o comunque quella situazione quindi il nostro compito è combattere per la nostra salute spirituale più che per la salute fisica questa è una distinzione grossa insomma come dire schematica però l'ho trovata assolutamente interessante che può dare anche risposta a determinati problemi della storia queste qui e poi è interessante che mi stavo domandando dice ma come mai dice Alan Esgadol dice nel testo e non diciamo Alan Issym ma perché lo diciamo tutti i giorni nelle sei ricordanze non c'è una preghiera Alan Issym per la guerra vinta contro Malek no però perché perché lo diciamo già tutte le mattine dicendo le sei ricordanze ricordati quello che ti ha fatto Malek quando sei uscito dall'Egitto che ti ha raffreddato ha attaccato alla fine eccetera ti ha mutilato per cui ecco è una cosa da guardare con grande grande attenzione e capire chi sono gli Amalekim di oggi giusto giusto può essere proprio accanto ad uno di noi Amalek può essere vicino di casa a qualsiasi ok grazie 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 non qua l'ha visto l'ha visto qui no un messaggio da fare questa cosa ok i growth code sono i libri le lettere di corrispondenza che il re avrebbe avuto con le persone negli anni e chi lo apre prende una benedizione eccetera eccetera ok ho capito sono 33 volumi 33 ok 33 qualcuno altro che vuole chiedere qualcosa aggiungere ops è successo eccolo qua scusate volevo fare una domanda ma i tedeschi e l'olocausto cos'erano gli Amalek oppure erano quelli che avrebbero dovuto vederci difenderci qualcun altro come come la mettiamo con l'olocausto ecco questo voglio sapere perché il dottor Messina ha detto una cosa molto interessante ma non ha collegato questo se sono Amalekiti chi sono questi che hanno fatto questo allora Gina non è importante se loro sono proprio di sangue di DNA figli di figli di figli di Amalek non è questo il punto il punto che anche loro oggi sono Amalek perché sono il male nel mondo perciò oggi Amalek non è il punto che sia discendente di Esau chiunque sì quello sì quando dovremmo prima di Moshe quando Moshe arriverà e dovrà distruggere questo allora lui sì ma Amalek oggi è colui che vuole fare del male nel mondo perciò i nazisti erano comunque discendenti di Amalek in quel senso non è grece non è per forza una appartenenza familiare come grecia e come anche chiunque chiunque fa male nel mondo è Amalek ma comunque avevano un culto del male perché avevano una specie di setta runica che praticavano le SS già il simbolo si rifaceva queste rune e quindi erano tipo di adoratori del male ecco quindi non è che sono molto distanti da Amalek io intendo i nazisti questi qua di adesso i nazisti moderni che ci sono anche in Erez sono comunque hanno comunque un culto del male della morte perché il comportamento è quello salve salve ogni bene buona serata a tutti